Mister Memmo, i dubbi di inizio stagione sembrano fugati man mano che va avanti la stagione. Questa squadra migliora di domenica in domenica. Oggi tre punti importanti nella vostra prima teoricamente casalinga, diciamo così. Sì, i dubbi forse ce l'avranno gli altri. Noi abbiamo ben chiaro l'obiettivo in testa. Oggi abbiamo disputato una grandissima partita. I ragazzi sono entrati in campo con grinta, cattiveria, come piace a me. Abbiamo dimostrato che se giochiamo così non dobbiamo avere paura di nessuno. Certo è che il campionato è difficile e dobbiamo guardare partita dopo partita. Intanto prendiamoci questi tre punti che sono importantissimi. La Sant'Egidiese era un'altra matricola, quindi uno scontro diretto. Sì, sulla carta sì. Però devo dire che loro sono veramente una grande squadra. L'hanno dimostrato anche oggi, hanno disputato una bella partita. E devo dire che forse ai punti sarebbe stato forse più giusto un pareggio. Però forse ci abbiamo creduto di più rispetto a loro. Ci abbiamo messo più cattiveria, più voglia di vincere. Alla fine abbiamo portato a casa i tre punti. Mister Di Serafino, dopo il pareggio di domenica scorsa è arrivata una sconfitta. Che cosa ha da rimproverarsi? Che cosa ha da dire ai suoi ragazzi per oggi? Se analizzo la partita direi che è stata una partita equilibrata. Noi siamo andati in vantaggio, però una squadra che va in vantaggio fuori casa non può riprendere gol dopo due minuti. E questo è il primo errore che abbiamo fatto. Poi nel secondo tempo la partita era equilibrata, abbiamo preso quel gol. Abbiamo avuto le nostre occasioni anche per pareggiare con Mucci. Però penso che il Fossagesi abbia vinto la partita perché sicuramente ha messo quella cattiveria in più che non abbiamo messo. Ha vinto i contrasti, ha vinto le seconde palle. In questo campionato se non ci metti questa componente puoi fare fatica. Quindi questo è un messaggio che lancia i giocatori, un messaggio che lancio a me stesso e alla squadra è che se non troviamo quella cattiveria, quella voglia di fare risultato faremo fatica. C'è tempo ancora per ambientarsi in questa nuova realtà? Ricordiamo che eravate le due neopromosse di questa stagione. Sì, ma purtroppo il tempo non ce n'è nel calcio. Bisogna fare i risultati perché alla fine il campionato è iniziato. Sicuramente l'atteggiamento non è quello giusto perché oggi è una partita in cui potevamo fare risultato. Ripeto, è stata equilibrata. Però se il Fossagesi ha vinto, ha vinto perché ha messo quella cattiveria, quella voglia di fare risultato che a noi è mancata. Quindi dobbiamo lavorare da martedì su questo perché questo campionato richiede questo tipo di atteggiamento. Grazie a tutti.